Oh, è bello rispondere a facile ironia, Feltrini. Ora vado a dirmi perché questo suona orribile. Questo è le dita. Ma adesso certamente fate più cose con le dita, però... Mettiamo il lato un po' più basso. Mi sono stufato sinceramente di sentire gruppi di uguale che fanno sempre ironia su cose che... Ovviamente quello di giallo. Dov'è? 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 Cosa c'è di terribile in questo? Cosa c'è di terribile nei plettri? Ogni plettro ha il suo suono. Anche un suono strano, tipo questo che è per chitarra. Ha un suono molto metallico. Vabbè, il pezzo non lo so poi. È un po' difficile di gravità. È un effetto, ovviamente va padroneggiato, io non lo padroneggio. Ogni plettro che si usa... Per esempio questo della... ST Se il suonato all'aperto o in sottopassaggi non applicato per ore, il plettro è opportuno usarlo uno per consumo di dita, se il suonato proprio per ore e ore, facendo strano. Se è voluto per il volume. Ovviamente questo ha un suono più gentile, questo è un po'... Quindi, invece di parlare delle cose, fatele sentire. Chewbacca's playin' Molto orgoglioso di suonare con un pettro rifletto. Su quale pro arte di D'Addario. Centro tari vitro aumenta Grazie a tutti.